Buongiorno a tutti e a tutte da Andrea Cartotto, una nuova puntata e nuovo videocorso, qui nella mia playlist, cioè nella mia rubrica dedicata alla formazione sull'utilizzo corretto di Classroom. Parliamo questa volta dello stream, cioè della bacheca che noi abbiamo in Classroom. Perché utilizzare correttamente lo stream? Ecco, questa è la funzione che io vedo più diffusa nelle scuole di ogni ordine e grado, perché ho un luogo fisico dove posso scrivere un testo, quindi scrivere un messaggio, che arrivi a tutti i miei destinatari. Sostanzialmente lo utilizziamo come via sicura e anche più pratica rispetto all'invio singolo di email. Però, ecco, qualche dettaglio sullo stream. Guardiamoli insieme. Allora, lo stream è bacheca, siamo d'accordo, e abbiamo il condividi qualche cosa con il corso. Intanto vi mostro che tramite questa tendina, io ora devo ancora inserire in questa Classroom di esempi partecipanti, però vedete subito che io posso dirigere il mio messaggio non solo a tutti gli studenti, ma deselezionando con un clic questo quadratino, cioè togliendo la spunta e lasciando la spunta solo a Mario e a Luca, io in realtà questo messaggio lo dirigo a due alunni specifici. Possono essere alunni BES, possono essere alunni in realtà a cui dirigo un messaggio perché ha natura privata, possono essere alunni A, alunni H, a cui indirizzo un messaggio semplificato e di aiuto. Vado a condividere con il corso e quindi vado a digitare il mio testo in questo caso. Vi ricordo che la nostra prossima lezione è calendarizzata per lunedì con inizio alle ore 9 e 30. Mi raccomando, puntuali. Ecco, qui possiamo dettagliare, ne parlo in un altro videocorso legato a come gestire correttamente l'avvio di MIT per la lezione sincrona. Guardate, mi raccomando, virgola puntuali, tra parentesi, mio avvio della lezione 5 minuti prima. Inutile arrivare prima o provare a collegarsi, tanto loro troveranno e devono trovare il pulsante a forma di occhio sbarrato, tanto il link di MIT è l'URL della lezione. Non lo debbono vedere perché io vado sull'ingranaggio 5 minuti prima della lezione, se voglio 10-10 minuti prima della lezione. Clicco sull'ingranaggio, vado, vediamolo un secondo, dai poi lo approfondite nell'altro videocorso. Ho la sezione MIT, vado ad accendere l'interruttore visibile agli studenti, addirittura per incrementare il grado di sicurezza, clicco sulla tendina, clicco reimposta, così ogni lezione sincrona ha un nuovo riferimento. Tanto loro all'interno di Classroom toccano il pulsante a forma di telecamera ed entrano. Se poi hanno qualsivoglia difficoltà, sono io che una volta dentro MIT potrò copiare l'intero URL della mia lezione sincrona e pubblicarlo, ad esempio, sullo stream di Classroom, sulla bacheca. A questo punto clicco su salva. Ed ecco qui che, insomma, vi ho mostrato, vedete, non c'è più l'occhio sbarrato, ma c'è un pulsante a forma di telecamera. Ho il mio messaggio caricato, diciamo una cosa simpatica, guardate, io clicco su aggiungi ed ecco le differenti proposte. Posso allegare un documento presente nel mio Google Drive, posso riportare un link, un articolo interessante, uno spunto, un link, quindi un URL steso che inizi con HTTP, semplice OS, due punti, slash, slash, www, eccetera. Posso allegare un file fisicamente presente sul mio computer o dispositivo, oppure posso cliccare su YouTube e in questo caso una doppia modalità di inserimento. Ricerco il video per parole chiave come se fossi su YouTube o cliccando su URL posso, facendo un copia ed incolla, selezionare in YouTube l'URL in alto di un video di riferimento, fare copia ed incollarlo in questa riga. Francamente io vi consiglio ricerca video, perché come potete osservare, se io ora digito campanella scuola, una cosa simpatica che talvolta mi capita di fare, clicco poi sulla lente, guardate, clicco su suono campanella scuola, clicco su aggiungi, non badate a questo zero minuti, in realtà è un errore francamente di Classroom, è un piccolo baco, il video ha la durata che deve avere, che è prevista su YouTube, non vi fate trarre in inganno. A questo punto vi mostro che questo messaggio lo posso pubblicare all'istante o cliccando sulla tendina lo posso programmare per una certa data ed ora. Se fossimo nell'ambito del web marketing lo chiameremmo fare un calendario editoriale, nell'ambito della didattica lo chiamiamo creare appunto un calendario didattico dei nostri contenuti. Certo, questa è un'azione professionale che noi stiamo svolgendo, cioè programmiamo un flusso di contenuti, oppure, se è un guizzo del momento, andiamo a cliccare su pubblica. Ed eccoci qua. Arriva una email che funge da promemoria e notifica a tutti i membri di questa Classroom che annuncia l'avvenuta pubblicazione di un nuovo contenuto, ma tanto devono leggerlo poi qui. Vi mostro in condividi qualcosa con il corso e chiudiamo proprio con questo che abbiamo due frecce che si respingono. Riutilizza un post. A cosa serve riutilizza un post? Riutilizza un post mi permette di dire bene, allora, tanto clicchiamo un pochettino, voilà, perché prima ho dovuto cliccare sul corso, adesso vedete che ci sono, con possibilità ovviamente di contrassegno, ho la possibilità di cliccare, per cui non li riscrivo ogni volta, su quei post, su quei messaggi che io pubblico come riepilogo ciclicamente. Ecco, lo clicco, clicco riutilizza e lo condivido. Quel pulsante, infatti, ha una forte similitudine con il tasto condividi presente su vari social media. Notare bene, se quel messaggio ha un allegato, come nel nostro caso, attenzione, un clic su, crea nuove copie di tutti gli allegati. Clicco su riutilizza, qualche secondo, voilà, il gioco è fatto, è pronto, come lo avessi scritto ex novo, quindi dal nulla, posso nuovamente decidere se pubblicarlo subito, se programmarlo comunque, se salvare la bozza, o semplicemente, insomma, mi sono pentito, clicco sul bidone, e non se ne parla più. Questa è la gestione corretta che noi possiamo andare a svolgere della nostra bacheca, cioè dello stream. Vi ringrazio come sempre per l'affetto e la stima con cui vi seguite e vi do già appuntamento al prossimo videocorso. Ciao, un caro saluto da Andrea Cartotto.